un saluto a tutti e a tutti ed eccoci giunti alla nona ed ultima parte di questo corso di presentazione della shell fish di cosa parliamo in quest'ultima parte beh dopo aver visto in lungo in largo le caratteristiche principali fondamentali fondanti di questa shell a questo punto chi è rimasto come dire folgorato dalle potenzialità di questa shell potrebbe anche decidere di rendere fish la shell predefinita e sostituirla a bash ecco di cosa parleremo in questo video finale ebbene sì siamo giunti al termine di questo corso e ovviamente è stato in ogni caso e malgrado le diverse ore di video registrato è stato in ogni caso impossibile presentare tutte veramente tutte le particolarità e tutte le funzionalità di fish questi come sempre succede quando si rompe il ghiaccio si comincia a usare uno strumento poi ci si fa la propria esperienza si imparano anche delle particolarità delle finezze che come dire saltano fuori appunto con l'esperienza non semplicemente seguendo dei video così passivamente l'importante è rompere il ghiaccio quindi iniziare ad usare per conto proprio qualcosa e poi appunto con i video si possono mettere come dire sono uno strumento accompagnatorio per dare la spinta iniziale ecco i video più che altro quindi evidentemente impossibile appunto presentare tutto tutto in un corso di questo tipo però appunto penso di essere riuscito è come dico qua comunque a condensare e a presentare gli elementi più importanti insomma le basi sulle quale si appoggia la shell fish e ribadisco come ho detto all'inizio di questo corso durante il primo video ribadisco che trovo questo progetto soster estremamente interessante con delle potenzialità molto estese e per essere una shell dico appunto una shell moderna ormai l'avrete visto se avete seguito tutte le parti puntate precedenti del corso avrete avuto modo di constatare voi stessi attraverso questi video e magari provando anche voi degli esempi direttamente sul vostro pc avrete avuto modo di accorgervi di cosa significa avere sotto mano e a disposizione una shell più moderna ecco sia a livello di codice sia a livello proprio di parole chiave termini riservati più vicini ai linguaggi di programmazione comunemente detti ecco in ogni caso non so ormai anche se uno degli obiettivi poteva essere questo non so se sono alla fin fine riuscito a convincere qualcuno di voi ad adottare fish come shell predefinita come ho fatto io tra l'altro è in ogni caso se così fosse allora è giunto appunto il momento di adottare fish fino in fondo ovvero di impostarlo impostare questa shell come predefinita come facciamo è semplicissimo eh e ve lo dico subito è semplicissimo fare il passo verso fish ed è altrettanto semplice fare il passo indietro verso bash quindi niente di spaventoso neanche qui non abbiate timore se volete seguire questi semplicissimi passi potete farlo se non siete soddisfatti tornate indietro non succede niente di male eh quindi come procediamo allora sempre con un pizzico di contorno come sempre nei miei video prima di tutto come facciamo a sapere qual è la shell predefinita corrente sicuramente se il vostro sistema è ubuntu o un'altra distribuzione linux quasi sicuramente il 99 per cento delle possibilità che sia bash come facciamo a avere la prova fare la prova del 9 di questo usiamo questo semplice comando stampiamo il contenuto della variabile di sistema shell lo facciamo ecco dollaro shell e vedete che ovviamente avendo già fatto la modifica sul mio sistema ho fish come shell predefinita e questo comando mi torna che ho l'eseguibile fish quindi il comando fish come predefinito ovviamente voi se fate lo stesso comando con ogni probabilità appunto otterrete usr barra bash credo che sia senza il bin in mezzo se ben ricordo mi sembra eh fatemi vedere ecco sì bin bash dovrebbe essere questo bin bash che appare a voi in ogni caso l'importante è il termine finale del percorso che viene evidenziato io ho fish voi avrete bash va bene procediamo non solo posso sapere qual è la mia shell predefinita ovvero quella che si attiva quando apro un terminale o quando accedo a un a una delle console di sistema presenti su un sistema linux ma posso anche sapere quante shell sono installate e convivono contemporaneamente sul mio sistema con quest'altro comando quindi questo etc shells è un file di testo che contiene elencate le shell installate sul vostro sistema linux cat serve a mostrare il contenuto del file quindi facciamo anche questo comando dunque etc shells enter e vedete che sul mio sistema ubuntu un commento in questo file dice che e shells mostra tutte le shell valide e presenti nel vostro sistema ci sono anche shell delle quali non abbiamo mai parlato probabilmente non abbiamo mai visto stanno lì dietro le quinte a fare il loro lavoro e non le vediamo non le sentiamo mai fra le quali sh dash bash ovviamente eccola qua bin bash che ora non è più la mia predefinita ma sarà la vostra r bash e fish appunto l'aggiuntiva è diciamo che fino a non so che dire forse due mesi fa non mi ricordo più esattamente quando ho avuto questo piacevole incontro con il progetto fish forse più di due mesi fa non so due o tre mesi fa comunque come sul vostro sistema presumibilmente se fate questo comando vi troverete queste righe senza ovviamente quella aggiuntiva io ci ho installato ci ho aggiunto fish e mi ritrovo anche questa riga queste sono tutte le shell presenti sul mio vostro sistema linux è tutte disponibili ok questo è il contorno adesso il succo di questo video è come impostare una shell piuttosto che un'altra come predefinita con un semplice comando questo qua il comando si chiama ch sh che come nome anche se sembra criptico in realtà ch sta per change sh shell quindi change shell intuitivo cambia shell la sintassi è questa con l'opzione meno s se volete voi stessi quindi impostare fish come shell predefinita fate copia e incolla di questo comando vi chiederà la password adesso io posso anche farlo per mostrarvi cosa vuol dire quindi ch sh meno s il percorso laddove si trova l'eseguibile di fish che è questo qua usr bin fish fate enter vedete che mi chiede la password una volta data digitata la password adesso annullo perché tanto per me è già fatta la cosa date enter e da quel momento fish è diventata la shell predefinita ovvero in questa variabile di sistema dollaro shell ci sarà usr bin fish al posto di bin bash tuttavia non è ancora attivo questo non è ancora attiva questa modifica nel sistema dovete riavviare il pc riavviando il pc e tutto sistema parte si accorge di conseguenza che deve usare fish e non più bash e poi al prossimo login la prossima attivazione della vostra sessione grafica vi ritroverete con fish predefinita ok in alternativa il comando chsh può anche essere avviato senza opzioni e in questo modo fa parte parte una specie veramente chiamarlo wizard o assistente di impostazione magari eccessivo per una specie di wizard interattivo che vi chiede quale shell volete impostare lo posso mostrare anche questo quindi chsa quindi non il comando diretto completo ma facendocelo presentare dal comando stesso faccio enter mi chiede la password questa volta la metto sperando di non sbagliarla ecco vedete quindi senza parametri non mi esegue nessuna operazione perché non sa cosa fare il comando quindi mi dice cambio della shell di login di nicola quindi sono io la mia user della mia sessione grafica che vedete qui di unity la mia login nicola vuole cambiare la shell di login ovvero la shell predefinita di sistema inserire il nuovo valore o premere invio per quello predefinito quindi vedete che mi dice shell di login tra parentesi quadre dice quello predefinito corrente questo se faccio enter semplicemente rimane quello se no posso indicargli una delle altre come faccio sapere quale quale mettere per esempio voglio rimettere bash metto questo bin bash lo scrivo qui invece di lasciare vuoto enter e bin bash tornerà ad essere al prossimo riavvio del pc ad essere la bash la shell predefinita io faccio enter perché voglio tenermi fish e quindi non cambierà niente il comando non ha fatto assolutamente niente se lo rifaccio lui chiede tutte le volte alla password è perché è proprio un comando importante di sistema questo tutto sommato e cambiate un modulo importante del vostro sistema e vedete che mi ripresenta come predefinito fish perché in realtà non ho cambiato nulla avendo fatto semplicemente enter e non avendo indicato un percorso di una shell alternativa quella per difetto quindi enter di nuovo non cambia questo è il modo per cambiare una shell con un'altra come predefinita avrete già capito a questo punto ovviamente che per ripristinare la shell bash qualora non vi piacesse l'esperienza fish malgrado il mio corso entusiasta vabbè qualora voleste ripristinare bash perché non siete contenti tornate indietro semplicemente col comando tra virgolette contrario quindi chsh-s slash barra bin barra bash e voilà siete tornati al prossimo riavvio del pc siete tornati la vostra shell come dire originale da installazione di ubuntu o di altre distribuzioni ecco per come parte conclusiva di questo video finale perché poi tutto qui fin dai conti è il cambio di shell avete visto è un comando tutto sommato niente di complicato niente di che e se avete qualche dubbio o timore nel fare questo passo quindi nel sostituire la shell per difetto bash con il fish vi ho riassunto qui un qualche punto che può come dire o rassicurarvi o convincervi ulteriormente se avete ancora qualche titubanza insomma uno ci sono già passato io da un po e sulla mia ubuntu 1404 lts non ho riscontrato nessun problema non so se lo riteniate una gran garanzia o meno comunque vi assicuro che io da qualche mese che ho fish come shell predefinita e non ho trovato assolutamente nessunissimo problema né di funzionamento del sistema né di che mi mancasse qualcosa rispetto a bash niente anzi come avete visto le funzionalità di fish poi tornando a bash quando vi mancano è dura tornare indietro a bash una volta che vi abituate a fish poi non la mollate più questo ve lo dico io da esperienza personale comunque vabbè questo è un punto a favore se vogliamo metterla così poi se volete o avete necessità di usare comunque bash perché magari avete scaricato uno script già pronto e ci sono tonnellate di script pronti in rete quindi è possibilissimo che abbiate a disposizione uno script che vi interessa o per qualsiasi altro motivo uno potete sempre aprire un terminale e avviare una sessione di bash tranquillamente basta che usiate il comando bash quindi io sono in fish in questo momento faccio bash ed eccomi qua in bash qui sono nella buona vecchia bash né più né meno come se fosse la shell predefinita ho attivato una sessione di bash l'unica differenza che non è quella predefinita ma posso avviarla con il comando bash tranquillamente quando ho finito di usare bash e voglio tornare a fish basta che faccio exit perché chiudo la sessione di bash ma sotto c'è pur sempre la sessione di fish eccola qua è la stessa cosa che al contrario si può fare con fish ecco se per comunque non ci sentite tanto dal per questa proposta di cambiare la shell predefinita volete conservare comunque bash come shell predefinita perché non avete tanta intenzione di cambiare le vostre abitudini però fish vi stuzzica vi interessa magari in determinati ambiti o solo in determinati momenti potete sempre installare fish come sono installate altre shell che non abbiamo mai usato né visto né sentito potete installare fish rimarrà l'installata come qualsiasi altro programma quando l'avete bisogno voi potete sempre richiamarla come da bash in questo caso perché conservate bash come shell predefinita richiamate fish con il suo comando fish semplicemente quindi fate exit per abbandonarla né più né meno quindi la cosa vale nelle due direzioni da bash potete digitare fish enter e entrate nel mondo fish così come da fish digitate bash e entrate nel mondo bash tutto lì quindi niente non perdete non perdete nulla non rinunciate a nulla se definite come predefinita una shell diversa dall'altra o viceversa ecco avete sempre a disposizione tutte le opzioni tutte le varianti come volete con un semplice digitazione del comando rispettivo comando poi non bastasse quello la prima riga di ogni script quindi quando creato uno script quando avete a che fare con uno script la prima riga indica sempre per quale shell è stato scritto quello script indipendentemente dalla shell predefinita sarà poi il corrispettivo motore di quella shell ad essere chiamato per eseguire lo script ovvero fatemi vedere se ho ancora ecco vediamo uno script qualsiasi di quelli che sono stati creati per o durante il corso vedete come inizia questa prima riga qua in alto usr bin fish non è nient'altro che il percorso l'eseguibile della shell che vediamo qua sotto eccolo qua questo è sempre riportato anche con questa sintassi particolare che vale per tutte le shell quindi cancelletto punto esclamativo e il percorso all'eseguibile di quella shell rispettivamente per bash c'è questa questa riga che abbiamo sempre visto già durante il corso del su bash ecco queste due righe ecco queste due righe specificatamente per fish e per bash ma vale anche per le altre shell eventualmente permettono al vostro sistema linux al nostro sistema linux che facendo per esempio dal file manager un doppio clic permette al sistema di dire ok devo eseguire questo script con fish oppure con bash e questo indipendentemente dal fatto che la vostra shell si può essere predefinita sia fish o sh o quant'altra ecco e anche avviando da terminale uno script verrà eseguito senza alcun problema con il corrispettivo motore quindi indipendentemente ancora una volta dalla shell predefinita che avete attivato sul vostro sistema qualsiasi script che voi create voi o scaricate dalla rete basta che abbia all'inizio come deve avere questo identificativo del tipo di shell da usare un doppio clic o un avvio da terminale e partirà correttamente verrà eseguita con il corrispettivo motore nessunissimo problema ancora una volta quindi vedete non rinunciate a nulla non perdete nulla anzi vi ampliate le opzioni aggiungendo fish al vostro sistema e non perdete niente solo da guadagnare dunque ecco qui come nota finale del corso e tutto quanto per chiudere quindi questo corso di fish shell dico appunto che in un sistema ubuntu non per niente appunto a proposito di questo discorso di shell predefinito o meno non per niente in un sistema ubuntu per esempio questo è il caso pratico mio sono già installate comunque all'installazione anche nuova installazione di ubuntu per difetto più di una shell più shell come abbiamo visto qui esistono più shell che convivono in un sistema linux perché molto probabilmente o sicuramente ci sono degli script di sistema che sono stati scritti quindi gli script che permettono di al sistema di avviarsi e di completarsi in tutto quanto gli serve per poi permetterci di lavorarci saranno stati scritti con shell diverse cioè non francamente non sono andato a indagare in tutte le cartelle dove eventualmente ci sono script per rbash o per dash o per sh ma sicuramente da qualche parte nelle vostre cartelle di sistema ci saranno questi script scritti chi lo sa dallo sviluppatore che riusciva a sviluppare bene per rbash piuttosto che per sh o per altri motivi tecnici per i quali è stato giudicato di usare una shell piuttosto che un'altra quindi comunque su un sistema linux convivono più shell aggiungere fish vuol dire aggiungerne semplicemente una in più non inficia nulla nel vostro sistema è questo che è importante che volevo stabilire e chiarire con voi ecco il fatto che la shell predefinita sia bash oppure fish oppure un'altra non ha quindi nessun influsso sul vostro sistema in quanto tale è soltanto una scelta vostra di utilizzo del vostro sistema come sto facendo io nel terminale in questo momento ecco normalmente appunto come ho già avuto modo di dire durante il corso o all'inizio del corso più che altro è impostata allo stato attuale è impostata bash perché penso di poter dire che è la più diffusa o se la contende forse con zsh non so comunque diciamo pure che è la più diffusa bash in questo momento la più conosciuta con un'enormità di documentazione ad esempio in rete quindi con bash andate tranquilli troverete sempre una risposta a qualsiasi problema perché qualcun altro già fatto qualcosa in bash per fish non è proprio così ancora c'è del materiale lo si trova ma non è sicuramente nella stessa quantità come quello per bash essendo più giovane ancora in uno sviluppo portentoso e non è ancora altrettanto conosciuta al momento fish non è presa in considerazione come installazione predefinita di sicuro ma neanche non c'è necessità di averla installata in un sistema nuovo perché non ci sono sicuramente script di sistema scritti in fish ad oggi il futuro chi lo sa ecco con questo ritengo di aver concluso degnamente questo questo corso sulla shell fish spero che vi sia interessato che fish vi abbia incuriosito che magari vi abbia conquistato come ha conquistato me e con questo penso di potervi salutare e vi aspetto alla prossima occasione che può essere chi lo sa un altro corso oppure i vari video singoli che riesco a pubblicare a scadenze più o meno regolari ecco con questo quindi concludo per davvero un saluto e ciao ciao a tutti